Che profumino quella zuppa, Tiana! È pronta, papà! Sì? Sei sicura? Mmh! Ma proprio sicura, sicura? Sì! Va bene, allora non mi resta che ma... Aspetta! Pronta! Che c'è? Beh, tesoro, questa è... La zuppa più buona che ho mai mangiato! Brava! Iudora, la ragazza ha un gran talento! È quello che penso anch'io! E un talento così speciale va condiviso! Ehi, gente! Ho fatto una zuppa speciale! Oh! Ma che profumino! Io porto le fratelle, Tiana! Sapete qual è il bello del buon cibo? Che riunisce le persone di qualunque genere! Perché riscalda il cuore di tutti! E sulle labbra fa nascere il sorriso! E quando avrò aperto il mio ristorante, ti assicuro che le persone faranno file di chilometri per venire ad assaggiare i miei piatti! Io ti assicuro che le persone faranno file di chilometri e 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 che le persone faranno file di chilometri Grazie a tutti.